Controlli, sequestri e denunce al mercato settimanale del sabato in Via Archimedia a Tortoreto. Questa mattina nel corso di un'operazione congiunta di carabinieri della stazione di Tortoreto, della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza di Giulianova, è stata sequestrata merce contraffatta per circa 20.000 euro. Una cinquantina di borse con griff false e circa 15 capi di abbigliamento, a loro volta frutto di palesi contraffazioni. Due degli ambulanti abusivi che avevano steso le proprie mercanzie tra i banchi regolari sono stati denunciati per violazione delle norme legate alla vendita di prodotti con marchi falsi. Uno dei due, entrambi sono di nazionalità senegalese, è finito nei guai anche per resistenza pubblico ufficiale, visto che ha avuto una vivace reazione al momento dell'identificazione. Va detto che alla vista dei militari altri venditori abusivi si sono dileguati in fretta e furia, abbandonando la merce in strada. Complessivamente, gli articoli contraffatti ammontano ad un valore di circa 20.000 euro, mentre sono state elevate sanzioni per circa 11.000 euro.